A proposito di disagio, credo che ci sia Mike Lennon in collegamento con noi fuori dal cinema che sta provando, o sta per provare, a entrare senza pagare il biglietto al cinema armato solo di una scala da lavoro, quindi fingendosi un lavoratore riuscire a entrare al cinema senza pagare il biglietto. Vi giuro che noi non abbiamo nessun tipo di accordo con il cinema in questione quindi potrebbero picchiarlo, denunciarlo, chiamare i vigili, tra l'altro cosa in cui noi speriamo. Assolutamente, Mike! Ehi, mi sentite? Sì, no, è bassissimo, bassissimo, se riusciamo ad alzare un pelo Mike... Molto basso? Mi sentite? No, però va bene, non è importante, allora ti pillotiamo noi col joystick. Tanto il set lo abbiamo fatto, il tuo caschettino da lavoratore ce l'hai? Ah, da casa si sente? Ok, allora, quindi non importa che non lo sentiamo noi e quindi io parlerò con uno... Va bene, va bene, va bene. Va bene, allora Mike, siamo tutti con te, imbraccia la scala e vediamo fino a dove riesci a entrare. Ci puoi solo dire che strategia hai deciso di utilizzare? Cioè, chiedi informazioni. Allora, dico che tu sei il capo, nel caso mi dica chi, dico sto capo. Ed è sei tu, sei tu Alessandro. Così alla fine non entri, però... Tenti di entrare con grande sicurezza, vai, 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 vogliamo solo vederti, vai, vai Mike, fai quello che vuoi. Ok, c'è anche un po' di coda, meno male, buono per le sale. Allora, aiutale, ho paura, eh? Sì, chi ti sta seguendo lo sta facendo con un telefonino nascosto, se potesse tenerlo un pelo più fermo, forse ce la facciamo. Sta per entrare al cinema. Ok, è entrato con la scala. Testa bassa. Sì. Testa bassa. Qualcuno esce dall'altra parte? Vai dritto da una parte, non pensare a niente, vai dritto da una parte. Sì, sì. Sì? Buona, una porta la fatta. Una porta la fatta. Sì, però, chi ti segue? No, ma non si... Vai! Torri! Entra Mike! Torri, torri. Torri, torri! Ma, eccolo, eccolo. È entrato da qualche parte, vediamo. È la sala? Sei dentro? Sei dentro? Sono dentro. Vai, vai! Mike, non fermarti, entra al cinema, Mike, entra proprio dentro. Devo andare alla sala President, dovrei mettere a posto delle luci. President? Sì. È giù, eh? Ok, perché sono... Sto raggiungendo... Aia! Ok, qua giù, giusto? Ok, perfetto. Ci arriveranno solo te, senta, senta. Perfetto, qua giù, sarà la Presidente, giù. Sì, bravo. Ah, ti ha dato indicazioni. Ok, perfetto. No, beh, incredibile, incredibile! Eh, sto raggiungendo i miei colleghi. Sì, speriamo che regga la linea. Vai, vai. Ok, di qua. Ok, grazie. Beh, fantastico. Entra dentro, entra... Ah! Ok, perfetto. No, perché la sala sottoterra non prende. No, beh, comunque sì, cioè ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Eccolo, 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 eccolo. Oh, sono dentro. Eh, sala Presidente, vai, entra, 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 entra. Guarda lì, la sala Presidente. Entra con la scala dentro proprio. Vai, sala Presidente. Mike! Oh, Mike, a sto punto guarda il film e facci sapere com'è. A sto punto guardalo, Mike. Vedi se la sala riesce ad avere dei popcorn. Cazzo, ma è entrato veramente. Vedi se con la scala riesce ad avere dei popcorn. Anche i popcorn, anche i popcorn, va bene. Mi sembra un finale di puntata incredibile. Grazie mille a Fabio Balsamo. Grazie a te. Grazie mille a Mike Lennon. Noi ci vediamo tra pochissimo. Grande... Grazie mille a tutti.